Buongiorno e buona domenica a tutti, voglio cominciare con un bel sorriso per cercare di trasmettervi un po' di tranquillità dato che in questi giorni ho letto delle cose veramente strane da parte dei tifosi della squadra campione d'Italia ora io capisco che giustamente siamo tifosi del Milan, siamo ambiziosi e quindi il nostro pensiero va subito vinto un titolo va subito all'altro, però un minimo di godimento ce lo dobbiamo tenere visto che un mese fa vincevamo lo Scudetto e devo dire che tutto quello che ho sentito in questi giorni dal punto di vista di catastrofisti, pessimisti, eliot autisti, addirittura Redbird autisti senza che nemmeno Redbird sia ancora ufficialmente entrato in possesso del Milan ecco tutto questo devo dire che mi ha fatto anche sorridere da un certo punto di vista perché dico questo? Perché credo che sia ingiustificata in questo momento l'impazienza dei tifosi del Milan è vero che quest'anno la stagione parte prima, è vero che c'è la questione Maldini della quale parleremo tra poco però è anche vero che è un mercato piatto fino a questo momento, c'è un mercato di tanti proclami di tanti annunci imminenti, ricordate? Dunque, tre settimane fa circa, di Maria alla Juventus fatta, 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 ha forse firmato ancora? No Lukaku sono 15 giorni che è praticamente al telefono con l'Inter call, continue, conference, buona gana, no? Forse all'Inter? Non ancora e allora mi sembra che nessuno, a parte Matic, che è un po' come il nostro Righi che arriverà ma mi pare che nessuno veramente abbia fatto nulla ancora in questo mercato perché? Perché ci sono tante problematiche, perché non è facile fare degli affari soprattutto in un mercato dove, come abbiamo già visto arriva un Liverpool che mette sul tavolo 100 milioni e si porta a casa un giocatore ecco, no? Quindi ci sono tante cose che... calma, io capisco tante cose, capisco che la notizia di Renato Sanchez al PSG, al PSG, al PSG, al Paris Saint Germain o come dice qualcuno a Paris Saint Germain, possa aver rovinato il weekend a qualcuno, però, allora, facciamo un discorso, spezziamo una lancia a favore di un quotidiano, mi va di fare questa cosa? Prima di passare ad altre cose, tipo alle sette domande da fare alla dirigenza del Milan che ho trovato ieri su calciomercato.com, ma spezziamo una lancia a favore di un giornale la Gazzetta dello Sport, la Gazzetta dello Sport dà dal momento dell'intervista a Paolo Maldini all'incontro con Cardinale, da lì in poi, diciamo, nelle tre settimane, due settimane che sono trascorse, tre settimane non mi ricordo, praticamente ha sempre tranquillizzato i tifosi ha detto, la questione Maldini firma, Maldini massara firma, è, come dire, una cosa di dettagli, stanno parlando, anche oggi sulla Gazzetta c'è scritto che stanno già progettando i soliti, oddio, chiedo scusa, ci sono già i soliti nomi, eccetera, che sbraccio troppo, adesso mi leggo le mani dietro la schiena, così. Quindi, se vogliamo dire che i giornali fanno terrorismo nei nostri confronti, mi sembra che in questa fase a fare terrorismo siano più certi tifosi, che già hanno cominciato a dire, addirittura ho letto che il prossimo anno arriveremo in Conference League. Allora, io mi rendo conto che un po' in base alla fascia d'età, un po' in base all'esperienza anche calcistica, si possa vedere il futuro, e anche poi soprattutto di base rispetto alla propria natura si possa vedere il futuro in un certo modo. Però io credo che, come dire, in questo momento, non sapendo niente, non sapendo che cosa sta succedendo, possiamo solo andare dietro alle 150 mila milioni di miliardi di voci, di indiscrezioni, di tweet star, di giornalisti pseudotali che sono in cerca di visibilità e affermano che l'altro giorno hanno letto un tweet che a casa Milan volano gli stracci. Che ne sanno? Cioè, voglio dire, parliamo di giornalisti, entità, persone, profili Twitter, eccetera, che non sapevano nulla, nulla, della vendita del Milan fino a qualche giorno prima, quando la notizia è stata fatta uscire apposta dalla nostra dirigenza, la nostra proprietà, e allora tutti si sono accaniti su questa cosa e tutti erano convinti, tra l'altro, che andassimo a Invest Corp, quindi non sanno veramente niente. L'ermetismo è il sale della vita per la nostra proprietà, per cui aspettiamo. Ormai tanto, voglio dire, mancano 15 giorni, praticamente, alla fine del mese e dopo vedremo. La gazzetta dello sport, ripeto, oggi dice che è tutto fatto, che si attende soltanto l'ufficialità, ma che comunque Maldini e Massara stanno lavorando. E allora facciamo una cosa, per una volta, facciamo che diamo retta al giornale, facciamo che effettivamente la cosa sta così. Poi, temi, giocatori che ce li portano via per una differenza di milioni. E su questo posso essere d'accordo, perché evidentemente, allora, parliamoci chiaro, evidentemente qualcosa che non va c'è, perché altrimenti ci sarebbe già stato l'annuncio. Non c'è nessuna ragione, in cielo e in terra, per evitare di annunciare al mondo che i dirigenti che gestiscono il mercato hanno rinnovato e che quindi possono andare anche a sedersi ai tavoli delle trattative con la forza contrattuale del rinnovo, della dirigenza dietro, della società e tutto quanto. È evidente che c'è qualcosa, però noi non sappiamo di cosa si tratti. Può essere tutto, può essere che Maldini se ne va, può essere qualsiasi cosa. Noi non sappiamo niente, però andare a pensare sempre la cosa negativa, secondo me, non fa bene. Comunque, qualcosa non va. Il discorso dei giocatori che possono finire da altre parti perché arrivano i rilanci. Due questioni da dire. Primo, se vogliamo credere a tutto, allora dobbiamo credere che è vero che, ad esempio, nel caso di Botman e Renato Sanchez c'era l'accordo col giocatore, forse c'era anche l'accordo con Lille, se arriva però una squadra che dai 30 facciamo per Botman, offerti da noi, e ne mette sul tavolo 50, siamo al discorso di dare appunto a capo. Cosa dobbiamo fare? Chiudere prima? Sì, certo, ma sappiamo che non sempre è possibile farlo perché qui il punto vero, vedete, il punto vero qui non è tanto il tempo, il punto vero è il modo, cioè, e l'ho detto anche qualche giorno fa, l'ho detto giovedì credo, l'unica cosa che può veramente danneggiarci, che può danneggiare noi tifosi del Milan, che può danneggiare la squadra e quant'altro, è un'eventuale prosecuzione di una linea di gestione aziendale che non è più compatibile con le nostre ambizioni. Cosa intendo dire? Intendo dire che siccome adesso spazio di manovra c'è per aumentare un po' il tetto in gaggi, per fare delle offerte a certi giocatori che meritano di restare, per andare ad acquistare dei giocatori che possono essere acquistati a certe cifre, anche più alte degli anni scorsi, proprio perché spazio c'è, ecco, se questa cosa non dovesse avvenire, allora lì veramente dovremmo arrabbiarci. Potrebbe essere questa la base del ritardo nella firma o nell'annuncio della conferma dei nostri dirigenti? Potrebbe essere, però resta il fatto che noi non lo sappiamo. Quindi anche arrabbiarsi perché arriva un'altra società e mette su... Cioè, se arriva al Paris Saint Germain e offre 30 milioni per Renato Sanchez, Renato Sanchez va al Paris Saint Germain. Purtroppo anche il tempismo conta in queste operazioni. Però siamo sempre nel campo delle ipotesi, ma prima di fasciarsi la testa, prima di dire che è tutto uno schifo, consideriamo queste poche cose. Il mercato è fermo, o più o meno fermo per tutte in questo momento. È piatto, guardate che casini ci sono a Roma, ad esempio. Sponda, Lazio, Sarri, no, hanno dovuto sistemare le cose perché c'erano già dei malumori. A Napoli, oggi, avete visto, no? L'Inter comunque non ha ancora preso nessuno e deve vendere entro fine mese. La Juventus doveva comprare mezza Europa e sta cercando di piazzare Arthur. Noi bene o male, al momento, abbiamo mantenuto il 90% della squadra dell'anno scorso, al di là di coloro che avevano un contratto in scadenza e non hanno voluto rinnovare con noi. E quindi, voglio dire, perché stracciarsi le vesti in questo momento, in questo momento? Quindi, un attimo di pazienza, no? Capisco che siamo tutti vogliosi di vedere facce nuove, ma un attimo di pazienza. Poi, quindi, di conseguenza, allora, mercato piatto, non sappiamo che cosa stia succedendo a casa Milan. Un giornale, come la Gazzetta dello Sport, ci dice che è tutto a posto, vogliamo far finta di crederle per una volta? Facciamo finta di crederle per una volta. Aspettiamo e vediamo. Non c'è molto altro da dire. Inutile fare speculazioni, inutile dire, no, ma loro, ma così, ho letto Redbird, sarà peggio di Elliot. Vedremo, vedremo. Qualche, diciamo così, qualche pensiero sulla nuova struttura societaria c'è, ma è solo un pensiero dettato da indiscrezioni, quindi anche lì da nulla. A settembre, quando ci sarà il closing, vedremo la composizione del Consiglio di Amministrazione, della struttura societaria, vedremo poi a novembre cosa sarà di Gazzini. Ci sono tante cose che non sappiamo e che non ci consentono di avere il quadro della situazione. Per cui il mio consiglio è questo. Anzi, aspetta che vi leggo, poi vi do il mio consiglio alla fine. Ieri calciomercato.com ha stilato sette domande ad Elliot. Allora, le sette domande fatte dalla redazione sono, 1. Perché Paolo Maldini e il resto del management non hanno ancora firmato il rinnovo del contralato in scadenza fra 12 giorni? Non lo sappiamo, potrebbe esserci quella questione legata alle ambizioni. Però, voglio dire, ragionando, allora torniamo alle parole di Paolo Maldini. Quindi poi l'incontro con Cardinale non è servito a niente, non ci sono stati poi contatti, a parte il fatto che poi anche lì capite bene come bisogna stare molto attenti ai dettagli. In questo momento il Milan è di Elliot, quindi Maldini firma il rinnovo con Gazzidis, non con Cardinale. Cardinale può dirci quanto vuole, che ha parlato tre ore con Paolo ed è stato fantastico, ma poi è Gazzidis che decida. Attenzione, ecco. Gli è stata fatta una proposta formale o tutto è fermo all'incontro di tre ore fra Maldini e Gerry Cardinale? Ecco, vedete, errore, errore. Non è Gerry Cardinale che firma il rinnovo a Maldini, è Gazzidis. Chi deve proporre il rinnovo di Maldini e Company? L'attuale CEO e amministratore delegato Gazzidis, che rappresenta Elliot, Gerry Cardinale, proprietario di Redbird? Naturalmente. No, perché, voglio dire, se tu vendi una macchina a settembre, non è che il tagliando adesso te lo paga il nuovo proprietario, te lo paghi tu, e quindi. Quanti saranno gli uomini di Elliot nel prossimo CDA del Milan? Vabbè, questo che gli frega a loro, no? Cinque come ha scritto l'equipo, due come ha saputo calcio e finanza da fonte, cosa gli interessa a loro e in parte cosa interessa anche a noi. È vero che Giorgio Furlani, attuale portfolio manager di Elliot, è candidato principale a sostituire Evan Gazzidis nel ruolo amministratore delegato del Milan? E chi se ne frega, pure qui. È vero che Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan, sarà riconfermato un ruolo anche nella nuova proprietà? E chi se ne frega, fino a un certo punto anche qui. Esiste un budget per rinforzare la squadra e puntare a rinunciare il campionato e fare belle figure in Champions League? Sì, ma non te lo vengono a dire a te, carocalciomercato.com Quindi ci sono, vedete, calma, calma. Buona domenica a tutti, calma. Ho premuto prima della fine del video. Mi mancava il consiglio, ho fatto un piccolo montaggio. Allora, il mio consiglio è questo. Fino al 31 giugno, godiamoci lo scudetto. Godiamoci lo scudetto fino al 31 giugno. Leggiamo delle altre, leggiamo di questo che sicuramente va lì, di quell'altro che sicuramente va là, di quest'altro che sicuramente è stato preso lì e sono ancora tutte come l'anno scorso, tranne, ad esempio, l'Inter ha perso Perisic, noi abbiamo perso che sì, l'Inter ha perso Perisic, la Lui ha perso Morata. Siamo tutti lì. Tutti lì. Quindi, calma. Godiamoci lo scudetto fino al 31. Andate nel mio sito e rivedetevi lo speciale sullo scudetto che vi fa venire il buon umore. Guardate Storie Mondiali. Guardate domani l'Angolo di Fili per la nuova rubrica. Parliamo di calcio. Aspettiamo. 31 giugno. Ho detto luglio forse prima. Ho sbagliato. 31 giugno. Anzi, 30 giugno, perché il 31 giugno non esiste. 30 giugno. Fin lì godiamoci il campionato. Godiamoci lo scudetto e aspettiamo che cosa arriva. Poi dopo, quando avremo ficizie, Allora ne parleremo. Buona domenica a tutti.